Tengo famiglia. Questa è in pratica la motivazione adotta da Riccardo Pippo Maniero per giustificare il suo addio al Pescara dopo quattro anni di vita biancazzurra. Già, tengo famiglia e per di più anche povera e per questo ho dovuto accettare una proposta come quella del Catania. Come se guadagnare oltre 10.000 euro al mese non fosse sufficiente per tirare a campare e ce ne volessero 40.000 per offrire alla famiglia Maniero tutta una vita dignitosa. Di questi tempi sono queste le storie che rischiano di allontanare la gente dal mondo del calcio senza scadere nella demagogia ricordando che c'è chi guadagna 500 euro al mese anche meno e deve campare con questo la famiglia forse più numerosa di quella di Maniero c'è da aggiungere che a volte nel calcio bisogna indossare una maschera per giustificare cose in maniera assurda che non hanno bisogno di essere giustificate. Maniero è un ragazzo che fa il calciatore di professione e lo fa anche bene e che offre i suoi servigi a chi lo paga di più. Punto e basta. È la legge del mercato e non serve tirare in ballo famiglie o storie strappalacrime che non stanno né in cielo e neppure in terra e che la gente oggi non accetta più. Altro invece sta nel rispetto di un contratto firmato qualche anno fa e che se la firma ancora un valore andava onorato fino alla fine. Ma anche questi sono nel calcio di oggi discorsi demagogici. Forse l'eccezione è rappresentata da uno come Carlito Stevez detto la Pache che ha già comunicato alla Juventus che non prolungherà il contratto ma che giocherà con la maglia bianconera fino alla scadenza. Senza storie, senza giustificazioni, senza dover raccontare storie che non esistono. Maniero è andato al Catania, è un giocatore importante in questa categoria ma non è insostituibile. D'altra parte si sa, i giocatori oggi hanno un potere contrattuale superiore a quello che ha la gran parte delle società. Il calcio è questo. Maniero è andato. Avanti un altro.